Benvenuti, speriamo che il primo episodio vi sia piaciuto. E come avevamo detto sul primo episodio, non saremo sempre noi tre a fare l'intervista e la puntata, ma oggi abbiamo il primo ospite di questo podcast, che è appunto Claudio Colla. Buonasera. 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 E innanzitutto possiamo darci il tuo? Certo. Ok, io sono Francesco. Io sono Antonio. E come è andato il viaggio? Bellissimo. Perché era un regionale, lento. Tante fermate. Però è puntuale, siamo arrivati in anticipo, quindi... Poi le marche sono bellissime. C'è un panorama che è meraviglioso, molto dolce e accogliente. Bene. E allora, noi in questi giorni comunque sapendo della tua presenza e ci siamo un po' preparati, abbiamo letto la tua biografia e ci siamo, diciamo, preparati alcune domande che voi possiamo iniziare a fartele. Ok. Allora, noi sappiamo che te da giovane hai fatto l'attrice e comunque diciamo che quando eri giovane hai, diciamo, abbandonato un po' per un periodo la fede cattolica. Cosa ti ha spinto a questo? Soprattutto, cosa hai sperimentato in quegli anni? Allora, intanto io sono ancora un'attrice. che, diciamo, la mia sensibilità artistica, il mio sguardo sulla realtà rimane quello di un artista. E tanto è vero che oggi che faccio anche il counselor professionista, utilizzo l'arte per aiutare le persone a stare meglio. Quindi rimango un artista. Che cosa mi ha allontanato dalla fede? È molto complesso il discorso, non è facile. Intanto andavo in una scuola, in un liceo, anche molto tumultuoso. Si faceva spesso autogestione, si faceva sciopero. Tanto che io a volte mi annoiavo e andavo all'università a seguirmi i corsi che mi piacevano di più. Perché in me c'era una sete di conoscenza e a volte questi scioperi continuati mi annoiavano. Che cosa mi piaceva? La filosofia? Avevo un voto molto alto in filosofia. Tanto che quando feci poi la licenza, liceale, portando filosofia con nove, il professore poi chiese di conoscere mio padre. Quindi avevo un'intelligenza vivace. Però il professore era un professore ateo e non credeva. Quindi dava un taglio sulla realtà a suo modo. Quando si è, diciamo, in crescita, quando si è adolescenti con la voglia di vivere la vita, di prenderla in mano, di decidere la propria vita, come senti, soprattutto come senti, spesso entri in contrasto anche con l'educazione ricevuta. Per cui io volevo vivere la vita a modo mio e cercavo di fare scelte che spesso erano anche in contrasto con la visione dei miei genitori, che erano profondamente cristiani. Per esempio, facciamo gli esempi concreti. Mio papà voleva che studiassi medicina. Io mi iscrissi alla facoltà di medicina, però la mia ricerca del senso della vita, perché questo è quello che mi muoveva, non si poteva fermare allo studio della medicina. Cioè non mi soddisfaceva. E a volte quando io facevo le domande ai professori, i professori mi dicevano all'università di medicina, questo non è di competenza della medicina. Semmai, semmai, a me interessava, diciamo, la medicina era per studiare l'uomo. Che cosa muoveva l'uomo, le emozioni. Per esempio, mi appassionava molto il sonno, la ricerca sul sonno, cosa accade mentre l'uomo dorme. come rielabora il proprio mondo interiore, i sogni. Quindi, diciamo che dopo qualche esame, che pure, comunque io andavo benissimo alla facoltà di medicina, non è che stentavo a studiare, però dopo qualche esame ho lasciato, sono arrivata fino alla, diciamo, fisiologia, perché volevo fare l'attrice. Avevo fatto un laboratorio e in questo laboratorio si provavano delle emozioni vere, perché per me l'arte è questo, è interpretare la vita, dare voce alla vita attraverso i personaggi. Cioè, non è fingere, non è recitare, no? Ma sperimentare la vita attraverso la storia di un personaggio. Quindi, quando scoprì Stanislavski, quando scoprì il laboratorio teatrale in cui dovevi provare delle emozioni e regalarle al personaggio, quindi prestargli il cuore, dissi, wow, questo è quello che io voglio fare, provare emozioni, provare emozioni. Poi, diciamo, come mi sono allontanata dalla fede, ci sono stati tanti episodi che mi hanno, diciamo, impedito di continuare a frequentare la Santa Messa quotidiana, no, quotidiana, la Santa Messa domenicale. Ci sono stati degli episodi, però, molto privati, molto personali che io non posso raccontare in questo momento. Certo, certo. Questo ovviamente non te lo chiediamo. No, no, grazie. Noi abbiamo letto che un anno hai condotto Sanremo. Siccome, insomma, ci incuriosiva, potresti magari raccontarci qualche curiosità, qualche aneddoto? Allora, intanto io penso che proprio condurre Sanremo è una parola grossa perché c'era Pippo Baudo che presentava. A noi però veniva richiesto ad Anna Falchi e a me di essere un po' la bellezza che rendeva più bello il palco di Sanremo. io avevo previsto di ballare perché ero avevo iniziato anche come ballerina quindi sapevo ballare e mi chiesero di ballare un tango però in sala prove mi feci male e eppure mi è toccato ballare il tango anche se avevo un ginocchio infortunato. questo allora che cosa succedeva che siccome non mi reggevano le gambe perché avevo un ginocchio infortunato e il palco di Sanremo era vastissimo ma era vastissimo perché avevano tolto lo spazio al dietro le quinte quindi per entrare gli artisti c'era un corridoio piccolo 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 cioè se io mi sedevo col banchetto ad aspettare il mio turno perché non potevo stare in piedi quando passavano i musicisti o i cantanti mi dovevo alzare e spostare il panchetto perché loro non ci passavano poi hanno fatto i lavori hanno cambiato un po' tutto quanto però all'epoca ecco quello che mi rimane è questo questo fatto che l'artista comunque è fedele a se stesso è difficile è difficile che non porta avanti il suo lavoro anche in condizioni non facili mi ricordo che avevo la febbre alta avevo 39 dovetti andare comunque in scena con uno spettacolo che era una commedia e io ricordo che non è che capivo molto di quello che facevo però siccome era una commedia passava un po' anche se proprio non ero precisa andava bene uguale perché nella commedia si è buffi anche quando appunto si è goffi certo e ricordo che quando ci fu l'applauso e finì lo spettacolo a me mi cadevano le lacrime proprio per la fatica affrontata quindi è un mestiere che ti tempra dentro sicuramente informazioni molto interessanti sia per noi che per loro da casa di retroscena anche però comunque noi sappiamo che è ovvio agli occhi di tutti che te ti sei riavvicinata poi alla fede e lo testimonia comunque anche la tua associazione che hai fondato le opere del padre e come vivi la fede oggi anche in relazione proprio a questa fondazione allora dico solo due parole che la mia fede si è riaccesa con il passaggio della porta santa nel 2000 l'anno del giubileo quindi per me adesso sono con il nuovo giubileo 25 anni no quindi una data importante come vivo nel 2005 è nata un'associazione che si chiama le opere del padre che si occupa di povertà oggi ricordavo che alla beatificazione di madre Teresa di Calcutta io ho vissuto proprio il Vangelo la pagina di un Vangelo perché così è poi nel cammino della fede quando tu vedi che la tua vita diciamo diventa Vangelo questo è allora mi ricordo che ero nella piazza di San Pietro con un'amica a un certo punto mi riconoscono probabilmente e viene un un signore della sicurezza che poi era una persona importante che stava vicino al Papa che mi dice signora perché non si avvicina un po' mi fa alzare e mi porta dal diciamo da dove stavo un po' più avanti nella piazza in una fila diciamo l'inizio della piazza dopo un po' arriva un altro signore e mi fa signora perché venga con me e mi porta sul sagrato mi porta sul sagrato ma sul sagrato sapete chi c'erano? no? c'era la beatificazione di madre Teresa di Calcutta chi c'erano? eeeh i poveri mi mettono in mezzo ai poveri è vero che stavo sul sagrato ma stavo con loro e quello per me fu un segno importante perché capii che veramente Dio poneva il sigillo sulla mia vita nella diciamo nel servizio ai poveri e così noi abbiamo per esempio tanti sostegni a distanza con i bambini soprattutto del Burundi ma sono state costruite anche tante cose in Africa non sto qui a raccontarle nel 2017 è nata una struttura che accoglie le persone che vivono in strada a Roma oppure persone molto disagiate che hanno bisogno del pagamento della bolletta del pacco della spesa a me i poveri mi chiamano mamma io sono mamma per loro è l'atteggiamento che ho normalmente nei loro confronti non vivo la fede semplicemente nella carità nel senso di dare il pacco il vestito c'è un servizio di docce di lavanderia c'è il medico c'è il parrucchiere per me la carità più alta è aiutarli a camminare nella fede quindi a volte parliamo di Dio anche se non sono tutti cristiani viene spezzata la parola di Dio c'è un confronto sempre della vita con la parola e poi la mia vita la vivo con questi grandi doni che mi ha fatto il Signore di Gianmarie che ha 30 anni che vive con me da quando aveva 16 anni di Natanaele che ne ha 8 e di Larissa che diciamo si trova in questo momento nella mia vita e ha 15 anni una vita abbastanza piena fra famiglia lavoro e volontariato che bella cosa veramente una cosa molto bella molto molto toccante e concludiamo così che insomma come hai detto anche tu nel 2025 ci sarà il giubileo e magari un consiglio che vuoi dare ai giovani che magari non hanno messo in conto il giubileo comunque un consiglio anche se no in generale non per forza riguardante il giubileo per questo anno insomma ma scommettere su Dio perché il problema è che quando si è giovani si è pieni di risorse di energie e si vorrebbe fare 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 ma con le proprie capacità con le proprie mentre se uno scommette su Dio sicuramente le proprie capacità diventano qualcosa di più io ho solo un rammarico che è questo di non aver camminato con il Signore negli anni della giovinezza avrei fatto molto di più e vi faccio solo un esempio da quando Dio è entrato nella mia vita il mio talento artistico si è affinato perché io lavoro in maniera più libera insegno anche e ho quindi la possibilità di lavorare con i giovani che vogliono diventare attori e ho ricevuto anche questo dono di capire che insegnare non è imporre uno stile un sistema di approccio al mestiere dell'attore ma è proprio aiutare l'altro a essere se stesso fino in fondo e quindi a scoprire il proprio talento il proprio la propria identità artistica e ancora con il mestiere del cancellor dove utilizzo l'arte per aiutare le persone a stare meglio ecco io ringrazio profondamente il Signore perché perché la cosa che mi rende veramente viva e quindi felice perché la felicità è estremamente legata alla vita in pienezza se io vivacchio sopravvivo non sarò mai felice quando la vita è piena per me e quando io vedo qualcuno che risorge qualcuno che sta meglio noi ovviamente ti ringraziamo tantissimo per la tua testimonianza e veramente stava sicuramente adesso ho perso anche la cognizione del tempo non so quant'è che siamo qua però per me soprattutto anche per lui è un'emozione fortissima e speriamo che questa emozione si veda anche per chi vedrà questo episodio a casa e noi ti ringraziamo per esserti aperta con noi e sì è stata molto toccante infatti ti ringrazio per averci concesso insomma di di conoscere magari appunto la tua vita grazie noi invitiamo voi da casa sempre a seguirci e se ve lo siete persi riprendete l'episodio prima di questo e al prossimo episodio a Grazie a tutti.